Ripartiamo dai parchi, mettere la natura al centro del progetto Italia. Questo è stato il titolo dell'incontro della Due Giorni di Fontecchio, un approfondito confronto sulle aree protette del nostro paese. Dal confronto sono uscite quali proposte indirizzate a chi? Siamo in un momento molto particolare per le aree protette. C'è una riforma della legge 394 del 91, che è la riforma sulla legge 4 sulle aree naturali protette, che istituisce le aree protette e ne declina gli organi di gestione. Questa riforma ha una serie di introduzioni che non piacciono alle associazioni ambientaliste, per cui è venuto fuori subito che una delle prime priorità è quella di fermare un po' la riforma che si sta discutendo in Senato, riaprire un dibattito per verificare bene quelle che sono state le azioni dei parchi fino ad oggi, le funzioni future che dovranno avere e come dovranno svolgere le loro attività. Altra priorità che è venuta fuori è la questione finanziamenti. L'altra priorità che è venuta fuori è anche quella di sanare quelle che sono le situazioni degli organi di gestione dei parchi e non ultima quella di aprire un processo molto partecipativo anche delle comunità locali, che devono diventare i co-gestori, i co-protagonisti della gestione dei parchi, anche in funzione e soprattutto della vera funzione delle aree protette, che è la tutela della biodiversità. Perché è importante tenere un occhio di riguardo per le aree protette e per i parchi? Ormai è provato scientificamente che tutelare una parte di territorio in maniera forte significa poi far sì che il benessere, i vantaggi di questa tutela ricadano sulle grandi città piene di inquinamento. Per cui sono i baluardi della difesa del nostro territorio e della conservazione della natura. Nello stesso tempo però bisogna capire che possono diventare una ricchezza. Grazie a tutti.